La cupola di Cosa Nostra è tornata a riunirsi il 29 maggio scorso, non accadeva dal 1993. I capi delle famiglie di Palermo si sono ritrovati per eleggere il nuovo padrino, l'erede di Totorina, morto un anno fa. È l'ottantenne, settimo Mineo, ufficialmente gioielliere, con negozio in corso Tucori, il più anziano fra i boss della mafia siciliana. Il giudice Falcone l'aveva arrestato nel 1984 e Luis Pavaldo aveva detto all'interrogatorio Non so di che parla, cado dalle nuvole. Una vita per la mafia, ma il mandato di settimo Mineo è scaduto all'alba. La procura di Palermo, diretta da Francesco Lovoi, ha fatto scattare un maxi blitz dei carabinieri nei confronti di 46 tra boss e gregari. E tra i fermati c'è anche il capo dei capi che avrebbe dovuto inaugurare la nuova era mafiosa. Passato è presente, continuano a intrecciarsi nella Palermo della mafia. Dopo i colpi durissimi subiti negli ultimi anni, Cosa Nostra stava provando a riorganizzarsi, questa volta in maniera più stabile, ricostituendo la commissione provinciale, l'organismo di rappresentanza delle famiglie, che non si era più rinito perché solo il capo dei capi in carica, Totorina, avrebbe potuto convocarlo. Morto il padrino di Corleone, sono partite subito le procedure per la nuova cupola. Oggi in discussione ci sono soprattutto due grandi affari per la mafia palermitana, il traffico di droga e le scommesse online. Business da milioni di euro. Le ultime mosse dei padrini non sono sfuggite all'antimafia. La campagna elettorale per il nuovo governo mafioso è stata seguita passo dopo passo dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale, diretto dal colonnello Antonio Di Stasio. L'ultima inchiesta parla di una cosa nostra che resta insidiosa, soprattutto per le infiltrazioni nell'economia legale e le relazioni. Le intercettazioni hanno sorpreso insospettabili imprenditori, che addirittura cercavano i boss per la soluzione di alcuni loro problemi. mafia, agenzia di servizi, i più svariati, da recupero crediti alla mediazione di controversie. Lo zio settimo è devoto, dicevano di lui i mafiosi. Devoto a cosa nostra, davvero una vita per l'organizzazione, anche se rischiò di essere ucciso nel 1982 nell'agguato in cui morì il fratello Giuseppe. Un altro fratello Antonino era stato assassinato sei mesi prima davanti alla gioielleria di famiglia. All'epoca c'era grande agitazione nella famiglia di Pagliarelli, fra Emineo e Motisi, ma il giovane settimo seppe distinguersi per equilibrio e diplomazia. Si guadagnò sul campo la stima di Todorina e dei suoi fedelissimi. Anche quando fu arrestato, chiamato in causa dalle dichiarazioni del primo pentito di mafia, Leonardo Vitale, all'inizio degli anni 70, poi Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno aggiunsero altre rivelazioni e Emineo venne condannato al primo maxiprocesso a sette anni, ridotti in appello a cinque anni e quattro mesi. Il boss di Pagliarelli è stato riarrestato dalla squadra mobile nel 2006 ed ha scontato un'altra condanna a undici anni, ma non ha mai avuto un cedimento in carcere. Tornato in libertà si è ritrovato in una situazione di fibrillazione tra le famiglie di Palermo, alle prese con gli arresti dei nuovi capi e le scarcerazioni dei vecchi mafiosi desiderosi di rimettersi in azione. E ben presto Mineo ha assunto il ruolo di gran mediatore, di garante per tutte le famiglie. I carabinieri lo hanno seguito mentre tesseva la sua rete di alleanze per ottenere il più ampio consenso. Il vecchio boss non utilizzava telefonini e camminava molto a piedi. Era lui che andava a trovare i mafiosi delle altre famiglie, un modo per evitare rischiosi summit. Ma il nuovo capo dei capi non è passato inosservato, aveva anche ottenuto il passaporto per andare negli Stati Uniti, ma il visto gli è stato negato.